Devi preparare due strisce, grandi all'incirca così, prima di fare l'amore. E ricordati di non perdere mai il controllo. E se ti offrono un'altra droga, estasi, acido, non prenderla. Ricordati, tu dovrai essere la scopata della loro vita. Mi sembra un lavoro molto difficile. Non direi. Tu prova a considerarlo come una parte in un film. Tu sei la star. E lui è il pubblico. Con il guardaroba giusto, il trucco, è ben pettinata. Non sarà facile resisterlo. Mi raccomando, ricordati di non spogliarti mai completamente, a meno che lui non giochierebbe lo stressamento di lui. Devi indossare capi che la moglie non porterà. Sono sicura che lui. Ora fa una piccola sfilata per me.